mister domani gara fondamentale come ci arriva giulianova ci arriva bene arriva bene ma ogni partita ha una storia a sé incontriamo una squadra che è in salute con un allenatore che conosce bene categoria sappiamo come carica la squadra il gruppo quindi sicuramente siamo partiti difficilissimi dall'infermeria arrivano buone notizie sì abbastanza sono tranne ancora damiano che fuori però tutti gli altri sono a disposizione grazie a tutti